È ufficiale il cambio delle regole per la scuola per riuscire a convivere con i casi di covid. Il decreto legge tanto atteso dalle famiglie è stato approvato e sarà in vigore dal prossimo 7 febbraio. Le nuove regole puntano ad una scuola in presenza e meno didattica a distanza. Partendo da nidi e materne, qui la dad scatterà solo al quinto positivo. Alla scuola primaria invece è stata decisa la prima vera distinzione tra vaccinati e non. Anche in questo caso si ragiona dal quinto caso positivo. Gli studenti vaccinati restano in classe mentre vanno a casa quelli che non lo sono e che dovranno usufruire della dad. Nella scuola secondaria dai 12 anni in su si passerà la didattica a distanza solo per gli studenti non vaccinati. Le nuove regole prevedono che dal secondo caso in poi i vaccinati con terza dose e i guariti restino in classe mentre per i non vaccinati si sospende la didattica a distanza in presenza per cinque giorni. La quarantena quindi scende comunque per tutti da 10 a 5 giorni. Chi ha completato invece il ciclo vaccinale o è guarito da meno di quattro mesi non deve fare la quarantena ma solo la cosiddetta autosorveglianza. Insomma mascherine FFP2 e tutti a scuola.